Cos'è l'adenoma della tiroide? L'adenoma tiroideo è un nodulo benigno di cellule nella ghiandola tiroidea che può anche essere indicato come un nodulo tiroideo. Questi tumori sono comuni, spesso producono pochi sintomi, o del tutto assenti. I sintomi che si verificano possono indicare una tiroide iperattiva. I segni del cancro della tiroide si verificano solo in alcuni casi in cui sono presenti tumori. I trattamenti per un'adenoma tiroideo variano e possono includere interventi chirurgici, terapie o farmaci. Si stima che il 10% della popolazione abbia un nodulo tiroideo, con più donne che le sviluppano rispetto agli uomini. Si ritiene che l'invecchiamento aumenti le probabilità di sviluppare questo tipo di tumore. Alcuni tendono ad essere classificati come cisti piene di liquido, mentre altri sono una raccolta di cellule ghiandole tiroidee più piccole. Le persone che hanno un'adenoma tiroideo possono non manifestare alcun sintomo clinico a meno che il tumore non sia cancerogeno, molto grande o causi ipertiroidismo. I sintomi che indicano tumori di grandi dimensioni comprendono difficoltà di respirazione e di glutizione, cambiamenti della voce e dolore al collo. Se è presente ipertiroidismo, altri sintomi che possono verificarsi includono pelle umida, perdita di peso, polso forte e arrossamento della pelle. Un'adenoma tiroideo in persone che hanno la malattia di assimoto può causare gonfiore del viso, aumento di peso e perdita di capelli. Uomini e donne che trovano un nodo nel loro collo sono invitati a contattare un fornitore di servizi sanitari. I medici trovano tipicamente noduli tiroidei durante esami fisici di routine o test di imaging per altri problemi relativi alla salute. Se viene trovato un adenoma tiroideo, i medici possono condurre diversi test tra cui la scansione della tiroide e l'ecografia, la biopsia e il test dell'ormone stimolante la tiroide. Le caratteristiche che mostrano un'aumentata probabilità di tumori cancerosi includono un nodulo duro, l'esposizione della testa o del collo alle radiazioni, un linguaggio rocco e una storia familiare di cancro alla tiroide. In questi casi, i medici possono scegliere di rimuovere chirurgicamente una porzione della ghiandola tiroidea. La chirurgia è anche usata per trattare le persone con un adenoma tiroideo che sta causando un ipertiroidismo o problemi di deglutizione e respirazione. Il trattamento per i noduli tiroidei non cancerosi presenta anche alcune complicanze dell'ipertiroidismo da danni accidentali ai nervi della corda vocale durante l'intervento chirurgico. Alcuni medici usano anche iodio radioattivo per curare i pazienti con tiroide iperattiva. Lo iodio aiuta a ridurre le dimensioni di questi tumori ma può causare infiammazione della ghiandola tiroidea in rari casi. Tuttavia, gli esperti medici non raccomandano lo iodio radioattivo quando curano le donne incinte per i tumori della tiroide? Casi particolari di noduli non cancerosi possono includere il trattamento con un farmaco chiamato l'evotiroxina per sopprimere la produzione dell'ormone tiroideo T4. Terapia laser e iniezioni di alcol sono altri trattamenti per un adenoma tiroideo. Molti noduli non cancerosi non richiedono un trattamento e non sono pericolosi per la vita. Grazie. 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 Grazie.